La Regione Toscana ha finanziato con 4 milioni di euro di risorse proprie 52 interventi di messa in sicurezza sulle strade in ambito urbano per ridurre gli incidenti con la manutenzione del sistema viario, la riduzione del traffico e la creazione di percorsi e corsie preferenziali per bici e pedoni. L'assegnazione delle risorse è stata illustrata a Firenze dall'assessore regionale alle infrastrutture Vincenzo Ceccarelli e riguarda nello specifico 12 interventi su strade regionali per 1 milione e 200 mila euro e 40 per 2 milioni e 800 mila euro su strade gestite da altri enti comuni, province e Stato. Sono interventi che si sostanzieranno in marciapiedi, rotatore, migliore segnaletica che saranno realizzati in prossimità di situazioni sensibili come le scuole o luoghi comunque molto frequentati. In questo modo pensiamo che soprattutto gli utenti deboli della strada, quindi i pedoni, i ciclisti possano essere messi in sicurezza. Al bando che prevedeva il cofinanziamento per un importo massimo di 120 mila euro hanno partecipato 73 soggetti nelle province di Firenze, Siena, Lucca, Arezzo, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Prato.